Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video, mi spiace sono qui per dirvi che abbiamo perso una grande registrazione, quindi abbiamo perso varie battaglie e sono arrivato qui, mi spiace per la live, se voi vedete il video finto di 19 minuti che vedete sul canale, è quello che resta appunto della live, come posso dirvi, che doveva durare almeno, non lo so, quanto sia più durata non lo so, però intanto stava durando un'ora, e questo volevo fare soltanto ripetere 7 battaglie, ora sono rimaste solo 3 purtroppo, non so quante ne ho saltate, non mi ricordo più niente, il video è stato patetico, posso dirvi che ne mancano soltanto 1, 2 e 3. due bloccate e l'unica che posso fare di Beerus che odio con tutto il quale, qui di Barter l'ho fatta, l'ho fatta per Miracle, l'ho vinto, qui di Napo anche l'ho fatta, è una difficoltà iniziale, dove è, oddio, ah eccola, vedete, non vi dice niente però vabbè, come vedete contando, sono rimaste solo 3 battaglie, e vabbè, come va va, queste sono le ultime, le ho messe in quest'ordine, e sono tutte alla stessa difficoltà, il problema è che questa battaglie di Beerus è buggata sotto ogni aspetto possibile, ho un serpiente perseverato e ho battuto tutti i serpiente combattere prima, pochi minuti fa, c'erano proprio abbastanza 60, questa invece è rotta, io ve la faccio vedere, è una cosa di orribile che avevamo già provato, e l'ho già reputato come fatta male, totalmente. Ragazzi, l'obiettivo, lo secondo, metto in mezzo, scusate, l'obiettivo potrebbe essere andare in acqua e fare sempre scontri di teataglie appunto, quella è la, l'impatto di teataglie appunto, che non è neanche possibile troppo perché, la mia è la seconda, caricarsi, ovviamente, lo caricare in acqua non mi vale neanche la pena, non so meglio, e l'obiettivo è un'altra cosa, oh no, non mi guarda che so, non si può male, e l'obiettivo è un po' di capire, ma che cavolo di raggiungere il blesse nel moco da vicino? che si può abbraccio? che è successo? sta merendo niente, non mi sta proprio calcolando totalmente, ma che mi ha perso? no, io non capisco tutto il messaggio, guardate, ho perso proprio la battaglie, ma non è una buona comunque l'obiettivo, ragazzi, è mandarle in acqua, non ci va lui ma che signore? ma che iniziale è già svenuto? non credo, c'erano cose che non basti battare su ciò, la tua persona, è un peccato, ciò, a grande potenziale, non puoi che fasse britta di tenere, credo che avevamo dovuto fare qualche cavolato, va a cavolare, sai? adesso, Pateria che non l'avevo mai fatto prima, vedemela vedere si, 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 ma fa tutto s***o, è benuto, che bella girata inutile, basta, che è benuto, è benuto, è benuto, anche perché è impossibile, C'è il noia che cazzo ha fatto quello E' un po' di parte E' un po' di parte Ma è sconfidato E niente Noia un tasto Quello è l'obiettivo Come vedete è veramente Pateria, non sa se è fatta veramente Ma non è Bisogna sempre pensare di stare E non accettare di appunto Di aure No, non è un po' di parte Che abbiamo quelli che vengono La testa sta arrivando Che si sta a togliere La massa? Pertomeno me la fa Di te è finita La fatta Ovviamente quello che dico in giro Non è mai vero Dicono che normalmente proprio funzionano Ti sembra che ti faccia di più Non so se ti cambia Da me non mi cambia veramente nulla Io c'ho Non fanno anche più che altro Aveva qualche dimostrazione Perché bisogna sempre avere Se pare di altro Non so se nemmeno chi guardando Non so se nemmeno chi guardando Non so se nemmeno chi guardando Vai finire Direi Già è paratico Già è veramente paratico Questa sta portando la vergogna La vergogna delle vergogne E non fa la pena dopo farla Non c'è male Non c'è male Non c'è male Non c'è male Non l'hanno vovuta a fare bene Mi spiace Dio che è tornato Non l'hanno vovuta a fare bene E che è una pericogna Non c'è una dei casi migliori C'è un try di get it back Così che poi lui venga fuori Fa le mosse Ma te lo sta cagando No Sì sì No Basta Basta Zitto Basta 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 La metto La metto Foglio non vale la pena Nulla Non va proprio Niente C'è questa battaglia E' una noia Quazzo E' lui che fa Neiare me Ness Che è fatta veramente Con i piedi E' una noia Mi ricordo Come si è paledì Di Senna Che odio Con tutto il cuore Che mi sono fatto Non lo so Beggio che un mazzo Contro il fallo Ho fatto la stessa vita Proprio mia In tutto senso E non c'è differenza Non c'è male Perdete facilmente Come niente Perché è scritta male Stavolta Totalmente Non è vale proprio la pena Non potete neanche stare fermi Vieni a guardare Non potete se non potete Non c'è male Non ti danni Cosa è possibile Che posso stare a scendere Che dicevo Non c'è male Adesso Vedete ? Niente Questa è la cosa migliore che hai ragazzo almeno sbattato, non potremmo andare a casa. Niente, niente. Non vuoi aspettare la mia vita? Io ho detto mille volte, mai pretendere la mia vita. Mai. Mai, Fabio. Mai. Che maglia casuale e patetica, non lo sai. Ma non è fatta in questo modo da noi. E' una massa di attrazione, hai un'altra cosa. Hai un'altra cosa. Hai un'altra cosa. Hai un'altra cosa. Hai un certo che ti ho fatto. Hai un certo che ti ho fatto. Hai un certo che ti ho fatto. La vita che perde non è brutta, Monta. la mente è brutta come è la massima finale? tanto che non ma già andiamo ok ci sono divi no sta neagando niente mi sei a dire ragazzi è ok ragazzi la battaglia è veramente neagosa la parata è che è neagosa quando ci muove ma non è neagosa più ma non più ma non ma non è finito 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 no l'ha tolto è proprio malvagio è malvagio è malvagio è un'epoca sembra un memore un coppio un coppio un coppio il coppio un coppio sono sconto dei anci sono sconto dei anci si è sempre stata rosa o no il proprio perso dai no ma davvero no no si 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 proprio perso o no però non l'abbiamo detto ti chiamarebbe fregato grazie a tutti i raggi come abbiamo detto abbiamo avuto veramente fortuna quindi ho capito ancora meglio di tutti di quelli su lo porterò ragazzi porterò un video su come si fa a Defender ecco il qua sono questi finiti ecco un altro dopo parti qualche mostrato ma che no 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 sono scusate e basta facciamoli fuori facciamo i neri vedi assessi neri come black ma dai sblocchiamo black ah sì ne imparano erano no ne scende io l'ho avuto stessa l'ho avuto tutto il cuore abbiamo perso la live quella che ho preso non è non è un protagonista se da bere se vede intenzione adesso non è un problema non è un problema ma dai si agli altri ma dopo fa schifo poi dopo fa schifo poi dopo fa schifo non combattere non è un problema ma cosa avevo che ha fatto senza io non c'errore il film ma chi è caccia di lui dai poi sti personaggi ma nooo guarda tipo le storie difficili che non c'errore ma che fa veramente 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 schifo per me è difficile che sono una attività sapeggio ah vabbè 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 sei un 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 vabbè 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 Non c'è, non c'è. Ho gol qui fa salì. Ho gol qui fa salì. Fa salì, fa salì. Mi guarda di quelle storie. Non ho vieta per la storia da spart. Non posso trasformare. Non è gol più di là. No, no. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. No, non c'è. Non c'è da parte di là. Ma credo l'obiettivo alternativo è che loro perdono un beat e si rompono i coglioni. Poi di mezzo a questi due boss perché io ne ho abbastanza resistenza. Non male la legge a fare. Da qualche giorno. Mi ricordo dai lacci sparchi che non dovevi premere 3 perché... Non c'è. Non c'è. Io sè più bella di passare io. Io sè più bella di passare io. Io sè più bella i vecchi skilli. Io so di stadi. Sì lo so eh. Ma è in particolare. Ma è in particolare questo black come hai detto. Ma è hard. Non posso trasformare. Esatto. È così. Non c'è. Non c'è. Non posso fare niente. Non posso trasformarmi. Il black come ha bisogno di il corpo di prendere sui città. Non c'è più bella. Non c'è più bella in procura. Un max 이용are. Un ucchieto. Non c'è più bella. Non c'è più bella. È un ucchieto di spai. Anche se i nemici agghi sono a carico Ma se ti detrospetta te... Sparisci Sparisci Black Goku Un po' raro Vado a cazzo lo padeggio E va seminare a testa I sindifigo I'm justinifo 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 C'è un po' di giallo, non c'è un po' di giallo. C'è un po' di giallo. C'è un po' di giallo. È il momento di perdere. Non ho ancora finito. È il momento di perdere. C'è un po' di giallo. È il momento di perdere. È il finale. È il momento di perdere. Vado a morire, ma ha detto Black. Black è imbattibile in questo modo. E' un po' di giallo, ma non è in eccozione. E' un po' di giallo, ma è innesso in Suss. Hai un po' di giallo. Cosa faccio? And.. It's time to end this. And.. It's going all out! Oh yeah! Got a little something for ya! Got a little something for ya! This is everyone's power! The Spirit Bomb! Wow no, Pris! Pris! Now, let's stop the gender here! The guy! I'm sweaty! I'm beat. Direttore. I lotto con Maya. Maya! Mori! 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 I don't know how he's going. è fiume, ma posso sentire la loro presenza ragazza! anche io questa stanza è un po' così tanto male perchè sta calzando quello caricato non sta assolutamente bene non so, non so, non so qua non sia adesso, ragazzi sono ancora a fare qualcosa, ragazzi no C'erse sotto.. Che è gogo? Ragazzi, ma che è gogo? E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E gogo ragazzi! E tu? E tu? E tu? Oh, c'era... C'è un giusto? E non c'è un giusto? E non c'è un giusto? E non abbia stato il giusto? Siamo più che cosa dovete fare, senti i gattoni. Ma mi schiava che pregio. Oh, cazzo cavolato, cosa devo dire? Stai zitto. Allora, si fanno quanti instanti, guardi. Oltre, fin da quando ho visto se usassi la FB, sentiamo come scende, puntiamo. Già non vanno a essere neanche chiamati, guarda, mi sono nella mente sui coglioni. No, scende. Sparige. Stai blitzing piano, guarda! Gosto, guarda, guarda, guarda. Vai go, guarda, guarda, guarda. No, guarda, guarda. Guarda, guarda! Guarda, guarda quanto riguarda! Alla momentà! D Canada orecchio subito. So, guarda! abbiamo un po' di chef down e abbiamo un po' di chef down e questo è il bambino di quindi è molto fatti e sia ce l'ho battuta a prima di più se ce l'ho battuta meglio ma come ha fatto a parare una mossa che nemmeno non capivo cosa ha fatto il chef ma abbiamo un po' di a questo è l'ho battuta l'ho battuta cuore bell'ho Ah, come ha detto Beers, cosa è un po' da ria, la facciata. Come ha detto Beers, allora. L'abbiamo fatta, in mezzo. Non mi piace però questa cosa per Beers. Mi fate leggere quelle battaglie. Cosa voleva l'anno che abbiamo perso, non l'ho capito. Leggiamo questa, non mi piace per niente. Ora è una cazzà comprata, può essere letta con video effetti. La mia persona, non c'è. Questi temi effetti qua, in realtà poi non c'è. Quali potresti essi modi per divertirlo. Purtroppo non ci riesco niente cosa vuole, non lo so. Video di Goku ci conto il 100 e il 100. E' un link qua, vedevi. Anzi, questo è cool, ma è fun. No, adesso va capire la mia spesa. Non c'è il corso. Anche non vedo altro, non mi sembra scegliere. E' una bella b. Ano aspetta un secondo, ecco il calcio di più. Un bel scosso di secondo. Alla perché. E' una bella b. Non mi faccio vedere la motivazione di attivazione statussate. Ti faccio vedere? No, non ci riesco niente, non ce niente. Exatto, la used Asspetto special1. sa io che non credo come funziona la prima è l2 r2 in ognuno di l1 r1 scheda e fatto e boh non lo so altro effetti dare 24 su 5 dai puoi mettere un sacco di effetti non può essere modificato ma potete guardare potete vedere sia i testi non so deve controllare non può essere modificato ma può essere ma ti fa credere quello che hanno uguale gente niente e c'è chi significa non c'è il che stavolta si è sponcato gli occhiali no già attenti che non si possono equipaggiare il cielo non potreste il cielo è un macello ragazzi può essere sincero che è un macello la creazione questo è il testo che vi dici qualcosa non fa questo non cresco minimamente non c'è il testo che non si parla attenti quanto ti ha abitato da vincere la cosa un'attivazione non c'è ne sappiamo non so poi farvi vedere i nemici quando parla non c'è nessuno io non c'è nessuno non c'è nessuno andiamo a vedere quella di Napa dopo qua abbiamo sbloccato questo e poi abbiamo errori Zamasu Piandele 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 ragazzi che muoce sul pericolo Stende cambia questa marge Stende cambia questa Stende cambia tutto questo Dio Si Fattula Jace Piandele 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 Attacco bloccato Piandele non si può fare qualcosa Piandele Può A ciò che non capisco Polto nogle Ma forse questo è quello che noi abbiamo fatto Polpo 무� una alzaggio Maz ma non ho sentito Piandele Non vuoi fare Piandele Puoi averopatho Sta Ho sentito Questo è benvenuto per mangiare a ecco proprio super mazzato non lo può fare se si vuole molto accidenti che si è un battito l'azione forza teni sul testo ma devo non dire anche se non c'è l'azione forza e lo dice che da una semplice mannaggia ma si è passato a sparticolino ti tende a andare a andare in sparticolino guarda cosa ho fatto una battuta frisata come os e ti batte da castagnacolpo supremo come os la tecchica è noioso cambia dei belli effetti da b a cd scusi 30 secondi si stacca pure così ma te la renda se la veramente renda bisogna battere il gesto gesto quindi lo aiuta da malattia cos'è da bella a cd io l'ho fatta e non lo voglio neanche io questa è la condizione la sentire la prossima intende ho capito se voglio fare la mossa finale se voglio fare la mossa finale con i stati azioni intende condizioni per andare a finire nella sconfitta speciale quando ce ne sta condizione ma non è vero perché poi andate con gli effetti quelli là che si vuole fare 10 ai 20 sconfitti sconfitta speciale io anticipo qualcosa lo scatto è uno di questi effetto P guarda colpo superma guarda se dice qua guarda qui guarda se cambia il tabella effetti da b a cd quindi intende che va ovviamente ragazzi a cd a last b a cd quindi questa nebb cd la le metto a capire e venite sconfitti ma che macee a quanto pare a non c'è niente a quanto pare a quanto le fanno è un maceale ci vuole molto fare una bens vediamo su tutti io penso che il più difficile ragazzi sono belli che non batti non lo so non lo so ok andiamo a vedere questa gag conoscito alliato 20 black 20 trans non mi piace niente ma andiamo solo vincendo 30 vincendo 30 20 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 21 20 21 22 24 25 25 25 25 25 25 Cosa sei laccato? Black Bardak! Allora non ci siamo molto forti Non sbagliare Non è un palazzo Elena Mamma mia che cavolo di... Di... di presa Di mossa Ma che sheputo per stolo dritto Il passo E' impazzito daiqué Ma è una buona volta Una volta buona l'ha detto Non c'è una black bar back in un'aila, va? Oh, è giusto a quel tempo. Ah, vieni a una testa, non c'è nulla. Ma si, per favore! Ah, non mi metto su... Il volo. Oh no, è un'antibildo gratuito. Ma tu mi farà per ragazzi se permette di prendere il buono, buono barba. Mi ritro. va bene ok per cui io non sono malati, sono peggio che malati non so se forzate queste, non ho capito sono pazzi, in verità, l'abbiamo annullato di valutare la vicina vabbiamo verso, dovremo mai mi si fa il sgerno questa verso non so se perdo mi sembra pazzi stessa ma perché è così forte ti prego, ti prego è la presa ma che t'ha un raggio questi danni proprio perché arrivo no 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 di breve sparisce l'abbiamo fatta sono ok ok è stato bug che è sfida se non pare manca solo una battaglia si vede tutta la faccia no mi manca niente mi ha finito mi ha finito non c'è nulla non la tele è un ruoto non mi ha finito in un rischio non è vero è un giitto non è vero è un giusto non è vero è un giusto non ci soppie allora è finita è finita insomma è fantastico non andavo neanche a introdere a comprare tutte per lo schifo andavo solo a comprare 30 è fantastico peccato però viene tutto in live sono contentissima non ho parole ora devo mandare anche a zen un becco andiamo poi dobbiamo creare le cose sono diversi sempre, non ho capito e niente ragazzi ora andrà andrà quello che faremmo ragazzi dovete prendere tutto cosa? oddio prendi tutto capisco iiii c'era denomare di titoli pure la maestria si chiama 6 stelle ok wow fantastico è bello vedere se è un gioco normale almeno non sono fregature avete pagato sono fiero sono veramente contento andiamo a vedere cosa è iniziato ciao c'era finito ciao fai più handicaps c'era pazzesco i soldi fanno schifo fanno dei soldi i soldi fucking равitz Noi dove c'avevamo già a parte Beh, a fondo sono buttata a cavolo, noi stiamo mica a sbloccare la storia a fuori Non so se fosse essere una storia Che modo Non so la storia di copa, la storia di questo Non so Non so Non so Decisioni Ma è vero Dare il mio guillo Dare il mio slug Dare il mio culo Dare il mio palatico come colt Dove è vero Dare il mio culo Dare il mio culo e il metal puller e il metal puller ma ho letto male ok, ottimo, questi i pochi bravi boccali a cavolo sono ehm no no, ben sicuro no vediamo a chi vuoi ehm nahil ehm ehm poi abbiamo molti costumi ne abbiamo molti a mio amore nel senso più colori eh vediamo un grande spender eh non so se si può sbloccare a cavolo ma quindi la piste fatto così non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo vediamo il becchio bard wow ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego oddio ma perchè che crilly è scusa non ho capito ti prego non ho capito non ho capito tu devi essere quasi così ricco che io ehm non so nemmeno cosa devo dire ma non ce l'ho maledetto guardiamo sono non so nemmeno non so nemmeno ma non c'è che cosa non c'è si miro che ti prego Ma che significa pianto? Ah spogliato intanto! No, la mia moda è che differenziabbero questi due stumi, insieme io pianto? Senza cintura con cintura? Non è canone! Non c'è un po' di questo! Non c'è un po' di questo! È! Hai bisogno di Zenni per l'agio per l'agio! Non c'è un po' di questo! È! Non perdere la tua cuore! È vera! Non c'è un po' di questo! E' necessitato, quindi! No, 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 no. Poi quello verde, wow, 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 questa è la sabbona, vabbè, che andava. C'è ancora il comodo, non ne ho la mia idea, vabbè. C'è il mio sinistro, sforzo di Roma. Questa è il mio sinistro. Ho capito, ti vuoi solo tutto, non ti? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che vuole musica, cavolo? Cosa sono queste robe? Cosa servono? Non ne ho la mia idea, non ho la spiega niente. Oggetti, strategie. Ma che significa? A cosa serve? Non capisco, mi spazio. Non capisco, dai, passa pure pochissimo. Non riesco qui a cosa serve. Oh, sì, ho questo anche. Ma il sogno. Io so, io so. Questi di sicuro saranno l'ultima cosa che compierò a suo giorno. Comunque, vogliamo svuotare tutto per ora, quindi prenderò... uno di questi ragazzo a casa siano. Vediamo un po'... Beh, hai trovato qualcosa che vuoi? Non c'è qualcosa che vuoi? Vediamo quello standard. Che cosa serve? Che cosa serve? Vediamo che non c'è nessuna cosa. Vediamo che non puoi vendere più. Vediamo che non puoi vendere più di questo. Vediamo che si sono venditi. Quanto pare, quando qualcosa muore, non vado a dare più e basta. Ma questa è tutto che ho avuto per ora. Che rimante. Vediamo che non puoi vendere più di questo. Oh, sì, ho anche questo. Non ho toccato su che esaurito per me la città. Scusate. Non ho fatto rischio. Cosa è esaurito? Cosa è esaurito o no? Ma sparisco. Beh, hai trovato qualcosa che vuoi? Sembra che siamo tutti soldi. Sembra che siamo tutti soldi. Sembra che siamo soldi. Abbiamo buoni costumi, veramente. Sì, abbiamo veramente l'interessante roba. E non so che devo dirvi. C'è solo che dovrò guadagnare soldi per fare un tono. Ci vediamo a un prossimo video in cui proverò i personaggi del gioco a cavolo, in live. Sperando che non me lo tolgano. Ho questo il tempo. Nient'altro, per un bel... le sfere non so... Quindi faremo varie cose. Comprenderemo varie versioni di... Zeno stavolta qua, quindi... Ogni messaggio verrà provato almeno... cinque volte. La gente in battaglia, anche magari. E vabbè. Ci diretteremo così. A cavolo in live. Quindi io, va. Vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. E spero che... non avvi più problemi gravi. Com'è questo. Ciao ragazzi. Al prossimo video. Ciao. Could you do me a little...